Il giardino di Villa Rufolo a Ravello nasce nella seconda metà dell'Ottocento con la volontà di impiantare sul Golfo di Salerno un laboratorio sperimentale botanico in linea con la migliore tradizione inglese già fermatasi sulle coste della Liguria. Ne fu autore Francis Neville Raid, nobile scozzese che nel 1851 acquistò la villa, in parte interrata e quasi allo stato di ludere, restaurandola e dotandola di un parco realizzato con il decisivo apporto di Luigi Cicalese, eclettica figura di giardiniere ravellese, poi sindaco della città. Il progetto è già tutto dentro il carattere del luogo, si tratta solo di esaltarne i valori. Dal viale alberato d'ingresso all'ultimo terrazzo inferiore detto di Wagner, sul quale si tengono concerti nella stagione estiva, si sviluppa una sorta di percorso iniziatico, dall'ombra alla piena luce, dall'architettura al paesaggio, da alberi come cipressi, pini e tigli a fioriture di straordinaria varietà e cromia attraverso torri, chiostri, scale e terrazzi. Nel 1876 il giardino è ultimato. Quattro anni più tardi Wagner scrive di aver ritrovato il magico giardino di Krinxor per il suo Parsifal. La letteratura trecentesca del Boccaccio, che qui aveva ambientato una novella del Decamerone, rivive nella cultura musicale dell'Ottocento, a conferma di un luogo che suscita ispirazione artistica. Ma per Raid questa continua a essere la sede dell'incessante sperimentazione di trapianti, di innesti, di acclimazione, di piante esotiche e persino ad una rara varietà di tè. Nel corso del secondo novecento il complesso è stato oggetto di restauri migliorativi, ma anche di gravi mutilazioni, come la perdita della parte superiore del giardino per la costruzione di una strada. Raid è una singolare figura di dilettante, nella più raffinata eccezione di amateur. Esperto di botanica e di arte antica, cultore e collezionista di elaborato gusto europeo, filantropo, è il primo esponente in ordine di tempo della piccola ma vivace e autorevole colonia d'oltremanica, che a cavallo tra 8 e 900 segnerà la vita sociale e artistica del piccolo centro costiero di Ravello, contribuendo a costruirne la notorietà internazionale. A Raid guarderà qualche decennio più tardi anche Ernst William Beckett, quando realizzerà il giardino di Villa Cimbrone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.